Nell'emozionante puntata del sabato 14 ottobre di Terra Amara, gli spettatori saranno travolti da una serie di nuovi sviluppi intriganti. La serata inizia con Demir, che ha appena condiviso una cena con Zuleyha e Sevda. Dopo la cena, riceve una chiamata da un amico che lo invita fuori, e così decide di uscire. Prima di andare, chiede a Zuleyha di andare pure a letto, di non aspettarlo sveglia. Sevda, osservando l'espressione di Zuleyha, nota quanto sia evidente l'amore che la donna prova per Demir, nonostante lei cerchi di negarlo. Nel frattempo, Fekeli si ritrova nel luogo dove in passato si incontrava con un car. Qui, Zuleyha lo raggiunge e lui le rivela quanto un car sia fiera di ciò che è diventata. Poi, con discrezione, le parla del ritrovamento dei soldi di Yilmaz e sottolinea quanto sia felice che quei fondi siano stati destinati agli orfani. Fekeli si chiede se Zuleyha sapeva che i soldi erano nascosti in quel terreno quando li aveva donati. Zuleyha, con sincerità, nega di essere a conoscenza di questo fatto. Tuttavia, il momento culminante arriva quando Fekeli rivela a Zuleyha un segreto che potrebbe cambiare il corso delle cose. Svela che Yilmaz ha lasciato un fondo di ben 30 milioni di lire a Kerem Ali, e che questi soldi verranno consegnati al giovane quando compirà 21 anni. La notizia getta una luce diversa sulla situazione, portando nuovi interrogativi e cambiamenti nella vita dei protagonisti. Zuleyha reagisce in modo positivo alla notizia dei soldi lasciati dagli Yilmaz a Kerem Ali. Rivela a Fekeli di sentirsi sollevata da questa notizia, forse perché rappresenta un modo per garantire un futuro migliore per il figlio. La conversazione con Fekeli getta luce sulla complessa gamma di emozioni che Zuleyha sta vivendo. Nel frattempo, Fikret, in un momento di intimità con Mujgan, le assicura che non la lascerà mai sola e cerca di baciarla. Tuttavia, Mujgan, ferma e ponderata, lo mette alla prova chiedendogli se è davvero sicuro dei suoi sentimenti. Fikret, sincero, le confessa che è la prima volta che si sente così. Ma lei le fa notare quanto abbia sofferto in passato a causa di uomini sbagliati e le chiede di aspettare finché non si è sicuro dei suoi sentimenti. Questa conversazione mette in evidenza il desiderio di Mujgan di non ripetere gli stessi errori del passato e il suo bisogno di una relazione vera e stabile. Fekeli offre gentilmente un caffè a Zuleyha e le fa capire che, mentre per lui il capitolo si è chiuso con la morte di Unkar, per lei, che è ancora giovane, ci sono molte opportunità e che non dovrebbe chiudere il suo cuore, pur senza dimenticare Yilmaz. Le dice che ha conoscenza dell'amore di Demir per lei e le consiglia di non sentirsi in colpa se si avvicina a lui. Ma Zuleyha, triste e tormentata dai dolori del passato, risponde che è impossibile riavvicinarsi a Demir, poiché si sono feriti profondamente a vicenda. Il dilemma di Zuleyha si fa sempre più complesso, mentre le emozioni dei personaggi continuano a intrecciarsi in questa avvincente storia. Restate sintonizzati per ulteriori colpi di scena. La conversazione tra Zuleyha e Fekeli si fa sempre più profonda e complessa. Fekeli sottolinea quanto la vita possa riservare sorprese inaspettate e menziona il gesto coraggioso di Demir nel rischiare la vita per salvare Yilmaz. Zuleyha, a sua volta, ammette di avere un debito di riconoscenza nei confronti di Demir per averla protetta e aver protetto anche Adnan. Fekeli le fa notare che Yilmaz aveva affidato Zuleyha a Demir prima di morire e che anche Demir ha diritto alla felicità. L'idea di essere felici insieme inizia a prendere forma, ma la decisione finale spetta a Zuleyha, con l'assicurazione che Fekeli sarà sempre al suo fianco. Nel frattempo, Fikret si reca a casa di Umit e condivide con lei i dettagli del loro piano per vendicarsi di Demir. Le rivela di essersi avvicinata a Demir sotto la scusa di un problema con un tubo dell'acqua, ma tace riguardo alla notte trascorsa insieme. Fikret suggerisce a Umit di conquistare Demir prima che Zuleyha si accorga di nulla. Inizia a delineare il loro piano, il quale mira a far emergere l'immagine di Demir come un uomo infedele, così come suo padre. Tuttavia, Fikret assicura a Umit che questa volta Demir non riuscirà a cavarsela come suo padre, poiché il loro piano mira a farle prendere possesso dei beni di Demir e a distruggere il suo matrimonio. Dopo aver completato la sua vendetta, potranno finalmente andarsene da Kukurova, e Umit potrà scegliere la sua destinazione. Il piano oscuro di Fikret e Umit promette di aggiungere ulteriori tensioni e colpi di scena alla trama di Terra Amara. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperà la vendetta e come influenzerà la vita dei personaggi. La tensione nella trama di Terra Amara continua a crescere con la vendetta di Fikret e Umit nei confronti di Demir. Umit chiede a Fikret se vuole uccidere Demir, ma Fikret rivela che il loro piano è di gran lunga peggiore. La loro vendetta mira a disonorare Demir di fronte a tutta Kukurova, un'umiliazione così grande da fargli desiderare di essere morto. Fikret minaccia Umit di non innamorarsi di Demir, e lei ribatte che è impossibile che ciò accada. La loro vendetta si sta trasformando in un piano oscuro che potrebbe scuotere profondamente la vita di Demir e Zuleya. Nel frattempo, Beyice chiama Ghaffur e gli ordina di compiere dei servizi per lei. Di fronte al suo rifiuto, lo minaccia di denunciarlo alla polizia per la morte di Atip. Questa minaccia getta ulteriori ombre su Ghaffur e lo coinvolge sempre di più nella trama della storia. Il giorno successivo, Zuleya informa Demir che Beyice ha preso possesso della villetta, mandando via Gulte nei Cetin. Demir si arrabbia per non essere stato informato in precedenza e decide di recarsi alla villetta. Zuleya, Sevda e Sanie lo seguono, preparandosi a fronteggiare una situazione che potrebbe portare a nuovi sviluppi nella storia di Terra Amara. Restate sintonizzati per scoprire come si evolveranno questi eventi e come influenzeranno le relazioni tra i personaggi. La tensione a Terra Amara raggiunge livelli esplosivi quando Demir si avvicina a Ghaffur, che sta portando via la spazzatura di Beyice, e gli chiede il motivo di questo gesto. Ghaffur tenta di giustificarsi dicendo che Beyice ha dei dolori alla schiena, ma le spiegazioni non soddisfano Demir, che colpisce Ghaffur con un pugno al volto e butta la spazzatura davanti alla porta di Beyice. La situazione degenera rapidamente, con Beyice che esce fuori dalla casa e inizia a litigare con Demir. Mujgan fa il suo ingresso e Demir la avverte di portare via Beyice da lì. Beyice minaccia di chiamare la polizia e denunciarlo, ma Mujgan cerca di calmare la situazione e la fa rientrare in casa. Poi Demir afferra Ghaffur e lo avverte che se lo rivedrà lavorare o anche solo salutare Beyice, lo caccerà dalla tenuta insieme alla sua famiglia. La determinazione di Demir è chiara e mira a proteggere il proprio spazio e la propria famiglia da Beyice. Sanie, rimasta sola con Ghaffur, gli chiede il motivo per cui ha buttato la spazzatura di Beyice nonostante lei lo insulti costantemente. Ghaffur cerca di inventare una scusa, ma Sanie gli lancia un avvertimento chiaro. Se farà un favore a Beyice, Demir lo affronterà. E lei potrebbe anche intervenire personalmente prima di tutti. La tensione e i conflitti tra i personaggi stanno raggiungendo un punto critico e la trama di Terra Amara si fa sempre più avvincente. Restate sintonizzati per scoprire come questi eventi influenzeranno la storia. La situazione nella trama di Terra Amara continua a evolversi in modo sorprendente. Dopo essere rientrato a casa, Demir chiama Fekeli e lo informa che Beyice ora risiede nella villetta, poiché Mujgan ha cacciato Cetin e Gulten. La notizia sorprende Fekeli, il quale dichiara che non avrebbe mai permesso questa situazione se avesse saputo in anticipo. Demir enfatizza che Beyice ha fatto del male a Zuleya e che non tollererà ulteriori provocazioni da parte sua. Fekeli promette di parlare con Mujgan per risolvere la questione. Nel frattempo, Beyice confida a Mujgan di essere spaventata dalle minacce di Demir. Mujgan le risponde che se terrà basso profilo, potrà evitare problemi. Beyice insiste sul fatto che le spetta il diritto di parlare, specialmente dopo che Zuleya ha rovinato il futuro di Kerem Ali. Tuttavia, Mujgan rivela a Beyice l'esistenza del fondo di 30 milioni di lire che Yilmaz ha costituito a nome del figlio. Inizialmente, Beyice sembra felice di questa notizia, ma la sua gioia svanisce quando Mujgan le spiega che quei soldi appartengono a Kerem Ali. Sono custoditi in banca e saranno disponibili solo quando il ragazzo avrà compiuto 21 anni. La scoperta del fondo mette in luce un nuovo elemento nella trama, sollevando questioni su come questa informazione influenzerà le scelte e le azioni dei personaggi coinvolti. La rivalità tra Demir e Beyice si fa sempre più intensa, mentre il destino di Kerem Ali continua a essere al centro di un complesso intreccio. La storia di Terra Amara promette ancora molti colpi di scena. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi. La situazione tra Mujgan e Beyice nella trama di Terra Amara sta rapidamente degenerando. Infuriata dalla notizia del fondo di 30 milioni di lire destinato a Kerem Ali, Beyice si rivolge a Mujgan con una serie di lamentele. Tuttavia, la reazione di Mujgan è diversa da quanto ci si potrebbe aspettare. Lei le risponde sorpresa che Beyice ha tutto ciò che desidera e che si prenderà cura dei suoi bisogni. Ma Beyice, arrabbiata, accusa Mujgan di farla vivere in mezzo ai contadini in una villa disgustosa e di dover vivere con il suo misero stipendio. Queste accuse fanno riflettere Mujgan, che comincia a comprendere la vera natura egoistica di Beyice. Mujgan, sbalordita dalle parole di Beyice, le dice che non le è mai importato di lei e di Kerem Ali, ma solo di se stessa. Beyice tenta di abbassare i toni e di giustificarsi, ma è troppo tardi. Mujgan, delusa, decide di porre fine alla relazione con Beyice e le dice di stare lontana da lei e da suo figlio. Da quel momento in poi, Mujgan si considera sola e cerca di allontanarsi da Beyice. Fecheli, venendo a conoscenza della situazione, va in ospedale da Mujgan e le comunica che la billetta ora le appartiene. Tuttavia, le fa notare che non era giusto da parte sua cacciare Cetin e Gulten, che erano sposati da soli tre giorni. Mujgan spiega che non ci aveva riflettuto, poiché Beyice le aveva detto che non voleva vivere nell'appartamento. Poi, rivelando le sue profonde delusioni, afferma che aveva creduto che Beyice amasse lei e suo figlio, ma ha finalmente capito che Fecheli aveva sempre avuto ragione quando aveva cercato di aprirle gli occhi. Beyice, infatti, si è dimostrata egoista e interessata solo a se stessa, e questa scoperta cambia radicalmente la percezione di Mujgan. La storia di Terra Amara continua a evolversi in modo imprevedibile, con i personaggi che affrontano nuove verità e svolte significative nella trama. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi emozionanti. La situazione di Mujgan inizia a risolversi quando Fecheli la rassicura che non è sola e le dichiara che per lui è come una figlia, promettendo di prendersi cura di lei per il resto della sua vita. Mujgan, toccata da queste parole, lo abbraccia con lacrime agli occhi, sentendo finalmente un sostegno e un affetto genuino in un momento di solitudine. Nel frattempo, nella casa di Demir, Fadik è in cucina con Sanie quando Rashid si presenta alla porta con un regalo in mano. Fadik è senza parole e Sanie, arrabbiata, gli chiede dove sia stato senza dare notizie e come abbia potuto lasciare la povera ragazza ad aspettarlo nel giorno delle nozze. La sua mancanza di comunicazione ha chiaramente causato tensioni in famiglia. Beice, d'altra parte, chiama Gaffur e lo costringe ad avvicinarsi a lei. Gaffur è timoroso e le obbedisce quando gli ordina di raccogliere la spazzatura. Tuttavia, Gaffur le fa notare che non può farlo, altrimenti Demir lo ucciderà. Beice, senza pietà, lo minaccia di mandarlo in prigione se non le obbedirà, costringendolo a piegarsi ai suoi desideri. Rashid cerca di giustificarsi dicendo che era stato chiamato d'urgenza a causa di un incidente stradale dei suoi zii, che sono la sua famiglia. Sanie gli rimprovera dicendo che poteva almeno andare all'ufficio postale e chiamare per avvertire. Rashid spiega di non avere avuto il numero di telefono, ma Sanie gli fa notare che bastava menzionare il nome di Demir Yaman per essere autorizzato a fare la telefonata. Beice, nel frattempo, consegna a Gaffur una lunga e costosa lista della spesa che deve acquistare e pagare, ulteriormente complicando la sua vita. La trama di Terra Amara continua a essere caratterizzata da tensioni e conflitti tra i personaggi, promettendo di mantenere gli spettatori con il fiato sospeso per ciò che verrà. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperanno questi eventi. La situazione di Gaffur si fa sempre più difficile quando Beice gli dice di avere visto rubare dei soldi quando era al cantiere e lo minaccia di denunciarlo se non le paga. Gaffur obietta che non ha i soldi e Beice gli risponde in modo determinato che deve trovare un modo per pagare, altrimenti finirà in prigione. Questa nuova minaccia mette Gaffur in una situazione estremamente delicata. Nel frattempo, Rashid cerca di riconciliarsi con Fadik, ma lei è risoluta a porre fine alla loro relazione, sostenendo che lui sta cercando di ingannarla. Fadik gli restituisce l'anello, segnando così la fine della loro storia d'amore. Zuleya, nel frattempo, si trova a colloquio con il detective Sadi, il quale rivela che nelle indagini sull'omicidio di un car è stato trascurato il tentativo di trovare il taxi che l'ha portata alle rovine. Questo taxi potrebbe contenere informazioni cruciali, e il detective ritiene importante interrogare il conducente. Inoltre, Sadi riferisce di aver indagato su Beice, una donna appartenente a una famiglia facoltosa che ha avuto due mariti morti poco dopo il matrimonio, un fatto molto sospetto. Anche se non ha prove concrete contro di lei, il detective promette a Zuleya che continuerà a cercare ulteriori indizi. Queste nuove scoperte gettano una luce diversa sulla figura di Beice e potrebbero portare a ulteriori sviluppi nell'indagine sull'omicidio di un car. Nel frattempo, Chetín e Gulten si trovano nella loro nuova casetta. Chetín chiede a Gulten se sia dispiaciuta per aver lasciato la villa. Tuttavia, Gulten risponde che non è affatto dispiaciuta, spiegando che non voleva viverci ma non ha detto nulla per non mancare di rispetto agli Ilmaz. Le vecchie dinamiche e le familiari continuano a essere un elemento importante nella storia di Terra Amara. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperanno le relazioni e le indagini in questa avvincente serie. La scena tra Chetín, Gulten e Fecheli in Terra Amara si sviluppa in modo toccante. Mentre Gulten è in cucina, Chetín, notando la sensibilità di Gulten, le prende la mano e la bacia. In quel momento, Fecheli fa il suo ingresso e i due giovani sono felici di vederlo. Si siede a tavola con loro e, mentre Gulten è occupata in cucina, Fecheli approfitta del momento per chiedere a Chetín se sia felice del matrimonio. Chetín gli risponde di sì e Fecheli lo rassicura che non farà mai del male a Gulten. Dopo la cena, Fecheli condivide il suo disappunto nel non aver saputo della situazione con la villetta, spiegando che si preoccuperà sempre per loro, poiché per lui sono come figli. Lui ammette che Beyce non merita di vivere lì, ma non è intervenuto per non turbare Mujgan. Tuttavia, Fecheli offre una soluzione alternativa, suggerendo che, se lo desiderano, i due giovani possano vivere con lui nella villa. Chetín e Gulten si guardano, e Gulten esprime gratitudine per l'offerta, ma spiega che per lei è importante poter vivere indipendentemente con il frutto del loro lavoro. Questa scena mette in evidenza i legami familiari e le relazioni affettive tra i personaggi di Terra Amara e offre uno sguardo più profondo su come Fecheli si preoccupi per il benessere. Delle persone a lui care. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperanno le relazioni tra Chetín, Gulten e Fecheli mentre la storia prosegue. Fecheli acconsente all'aspirazione di Chetín e sottolinea che ha sposato una donna di grande valore, ricca di virtù, e con lei avrà la possibilità di condurre una vita felice e onorevole. Questo momento dimostra il sostegno e l'approvazione di Fecheli nei confronti del matrimonio di Chetín e Gulten, rafforzando il senso di famiglia e comunità presente nella storia di Terra Amara. La scena si sposta poi a casa Fecheli, dove Nazire sta preparando la tavola. Arriva Fikret e Mujgan lo avvisa che Fecheli non parteciperà alla cena e che quindi cenerebbero solo loro due. La reazione di Fikret è visibilmente confusa e sorpresa. Successivamente, Fikret rivela a Mujgan di aver dimenticato un impegno importante e se ne va di corsa. Questo sviluppo lascia il pubblico con molte domande sulla natura di questo misterioso impegno di Fikret e su come potrebbe influenzare la trama della serie. La puntata si conclude ma vi invitiamo a restare sintonizzati per scoprire la verità sulla morte di un Kariaman che si sta avvicinando, oltre a sottolineare la crescente connessione tra Demir e Umit che potrebbe portare a ulteriori sviluppi nella storia. Se il video vi è piaciuto, continuate a seguirci, mettete un like e commentate per sostenere il proseguimento delle nostre anticipazioni. Grazie, a presto!